Allora, mi sono ricordato che in questa route non possiamo catturare un Pokémon. Perché? Perché nella route 103 abbiamo già catturato, abbiamo già ucciso un Pokémon. Era un Sentret. Porca miseria, l'abbiamo appena voluto! Però ci sono dei tizi dove possiamo allenarci un pochino... Ah, ma non disturbavo niente. No, infatti, questi fino a quando non li ho. Mamma e papà MMA. È una coppia lesbo e hanno un Regiroc. C'è un motivo! C'è un motivo! Poison Powder! E tu usi... Perché tutti gli allenatori ci hanno sempre un leggendario e noi non abbiamo un cazzo? Noi abbiamo un leggendario, abbiamo un Rayquaza! Ma gli allenatori sono allenatori, noi siamo allenatori. Non l'ho capito. Noi siamo allenatori rivali, non computer. Hai ragione. Il Rayquaza è un Razorleaf. Non c'è un Regiroc che è un Razorleaf. Aio. 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 Slash. Ma si è illuminato o sbaglio? Eh? Ah, no. No, lampeggia per la scelta del Pokémon dove possiamo ucciderlo. Ah, un Regiroc che è un recato così qui. Ok, l'abbiamo ucciso. Povero spiegato. Questo dovrebbe esserci. Cioè, dovrebbe darci un po' di esperienza. Sono il loro, ma sono due maschi. Ma addio! È pelato! È pelato! È un'app! Ah no, non c'è i capelli. No, no, c'è un po' di capelli. Oh, ma che cazzo? Ma perché sono tutti i ghost writer? Florentino. Oh, ma wild. Che cazzo è Florentino? Ma wild. Ma wild deve essere femmina. Ma wild, ipervoce. 3 force. Oh, 3 attack. Ok. No. No, ok, ok. No, no, Charmeleon resiste. Cambia Pokémon! Charmeleon resiste. Cambia Pokéball! Ah, ok. Vai, ok. Lui è giorno di paglia, ma fallisce. Ah. E io ti rubo l'oggetto. Non lo niente. Io spero che abbiano degli oggetti, dai. Ok, ce l'ha, ce l'ha. Ce l'ha. Una bacca arancia. Nel caso stiamo per morire, almeno ci guadagniamo 10 punti vita. Ma che vuoi che sia? Beh, che vuoi che sia. Sai com'è? Sono sempre 10 punti vita. E che vuoi che sia? Ma che bello stavo. Voglio più difesa. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Qui dovrebbe esserci un altro pescatore che... Ma come trolla, guarda come trolla. Sta un po' andando in pari paranoia. Porca puttana, ha perso qualcosa, ne sono convinto. Ha perso qualcosa, dice. Boh, e io coraggio un pochino. Super puzza. Super puzza? Sì. Tu. Appolla va! Swimmer maschio Kim. Swimmer maschio Kim. Dobbiamo, dobbiamo specificare. I per voce! Swimmer maschio Kim. Un altro ramoride. Ancora. Poison Pounder. Oh, mister. Poison Pounder. Quarter Pounder. Tu intanto non ci fai un cazzo. Volt Attack! Ciao! E muore. Grande. Quiffy è forte con Volt Attack. Per tutto il resto fa schifo. Wursaring. Volt Attack! Cacca miseria. No. Lui usa assorbimento. Cazzo! Aia! 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 Ci è mancato poco! Coso! Vai! Ciao, Coso! Lui usa... Che cazzo! Ci ha lanciato una Dragon Ball! Una Dragon Ball! Ci ha lanciato una Sfera del Drago! Sì, ma una di quelle che sono andate che hanno già realizzato... E io gliela... E io lo punzecchio sul capezzolo. Ma non ci li ha. Eh? Non ci li ha capezzolo. No, però gliel'ho fatto. Non ci devo capire. E vabbè. Qui fissa le livello 20. E sta per imparare azione. Beh, al posto di cosa? Che però è una mossa potentissima! Porca puttana! Al posto di vero e pollo. È uguale a Ipervoce! Io lo metterei al posto di Ipervoce. Al posto di veleno? No, velenpolvere. Guarda che è a velena e comunque ci sta. Al posto di... Voltacl? Io lo metterei al posto di Ipervoce. No, perché Voltacl è forte. Guarda. Slash pure. Voltacl... Ipervoce e azione... Ma sono uguali. Sono uguali, però il fatto è che ci sono dei Pokémon che le mosse vocali, le mosse date dalla voce o dai suoni, non gli fanno effetto. Allora, metti il Tacos. Quindi metterei azione al posto di Ipervoce. Oggi ho voglia di Tacos. Minchia, ci stanno i Tacos. No, meglio il Sushi. Eh, minchia, il Sushi. Qui potremmo... Dovremmo chiamare Anno per catturare... Per prendere quell'aggetto. Ok, vado un attimo a prendere Anno. Ci sono degli oggetti segreti a volte. La Pettaglia Berry. La Petta. Petta. La Paberry. Sì. Arriva fuori il cazzone. Arriva fuori il cazzone dall'altra volta. In teoria quella è la pianta da dove è arrivata... Che era prima un pene. Prima è un pene e poi diventa quella pianta lì. Ma perché mi ha preoccupato l'altra volta. Vabbè, Anno, ci sei servito molto. Adesso ritorni dentro al PC. Cosa stai facendo, il giocogliere? Ecco, era solo per essere più... Ordinati. Più ordinati. Voglio evolvere un Pokémon. Purtroppo l'unico che ci si può evolvere adesso è ok. Ho la Pietratuono? No, a livello 30 abbiamo controllato. Cosa abbiamo controllato a fare? Niente. A livello 36 invece Charmeleon si evolve. Voglio un Pokémon elettrico. Ce l'abbiamo già, Gaz, sei te. Ma non posso evolvermi? No, è l'ora! Brellum! Ombrello, ciao! Mi piace Brellum. Quanti testifoli. E io lo fulmiro un casino. Eh, non male come attacco. Però lui ci ha bruciato. Ma che bastardo! E usa Twister. Usa Tornado. È meglio se ci cambiamo. Perché quando siamo bruciati il nostro attacco viene di mazzato. E il fatto che viene di mezzato non è affatto bene. Divento un tipo normale. Buono. E io ti acceco. Colpo del sole! In breve sì. E' un'altra. Ok, un'altra volta! Colpo del sardo! Aio! Boom! C'hai Meco? Oh, non l'ho mai visto. Ah, c'è Cante! Oh, non gli va. Le mosse di tipo psico non gli vanno. Bruce. Usa Bruce. Bruce. Bruce, vai. Bruce. Lui non avvita il tiro. E io uso rimbalzo. E non lo scende più. Non lo scende più. Lui cercava di usare paralizzante. Attenzione quasi a sciottare. Ah, crediente a color stage. Quindi è diventato di tipo normale adesso. Quindi non male. Ok, c'hai Meco è mandato. Massacrato. Ora, allora, qui sopra... Possiamo catturare un po'? No. Qui sopra c'è il nostro rivale che ci aspetta per una lotta. Ovvero Franco. No, come l'abbiamo chiamato il nostro rivale? Ma che cazzo sembra? No, non potevamo neanche chiamarlo il nostro rivale. Secondo me si chiama Franco. No. Dobbiamo... Non abbiamo una qualcosa per la brasciatura? Usiamo tutti i tipi di bacca. Una bacca per Pokémon. Perché? Non abbiamo... Vabbè, devo andare a curare un attimo i Pokémon. Poi andiamo a fare una... Guardalo lì che ci aspetta, sto stronzo. Guarda, come trolla. Partiamo con Quiffy o cambiamo con... Partiamo con Gaz. Partiamo con Gaz? Sì, per sicurezza. Andiamo per sicurezza, va bene. Ciao, Brendan. Tanto cambia il nome. Questa è una delle battaglie... È un Dottor Joe! È un Dottor Joe! Ci manda qui lava. Che carino qui lava. Ah, non può completamente il caso. No, infatti. Banniamo, lo mandiamo con una... Cosa facciamo? Decidi tu cosa fare. Banniamolo subito. Banniamolo subito. Bannio stentano. Mi immagino un steroce che le evochi dal nulla. Dal cielo che cominciano a cadergli indosso. Devi usare il Razor Leaf. Che è di tipo terra. Ai ai ai. Bastardo! È super efficace. Io ti stupro! E io di nuovo lo banno. È un po' un bannato definitivo. Sì, infatti. Perché Gaz è resistente. Non mi dispiace il fatto che sia resistente. E il prossimo è Machamp. Attenzione, ai muscoli. Io ho paura di muscoli. Ai muscoli, infatti. Cosa facciamo? Leggimente e poi per Forcorno? Sì, va bene. Ti leggo il corpo. Tu... Tu in realtà hai molta paura. Hai paura della tua stessa forza. Non ci fa un cazzo Psychoboost. Preparati a essere... E anzi, il suo attacco speciale se ne va. Preparati a essere penetrato. Neanche perforato. Proprio penetrato. Cioè, tu stai pure lì a guardare del tipo... Chissà se l'ammazza. Sì, è un capo in un attacco. È ovvio che l'ammazza. Non è vero che stavo guardando. Eri lì così. A me piace fare il cristale così. Squirtle. Che sprite stupida. Orgasmo. Mi fa schifo sto spesso. Perché sembra che stia dando il pollice all'insù del tipo... Ti ricordi di me? È vero. Dal primo gioco? Orn Drill Direct. No! Orn Drill Direct. Ma senza leggimente non fallisce. Fidati! Era centro. Senza leggimente non fallisce. Fidati. No, vabbè. Va bene. Io provo. Bravo. Tanto non possiamo scappare. Lui ci usa... Ma lo sguardo. Oh, ok. Te l'ho detto. Tu ti devi fidar di me. E non era neanche molto efficace se hai sentito il suono. Ma me lo sento io quando... Quando è giusto che... Dr. Joe! Abbiamo battuto Dr. Joe! Joe! Ciao Joe. Sì, bla 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 bla. E abbiamo il Metal Detector. Non c'è scritto TimeCosm. No, ItemFinder. Praticamente è buono il ItemFinder. Praticamente... Ok. Qua non ci sono oggetti ma qui davanti sì. Ah, c'è un po' che mi ha. Ah, ah! C'è qualcosa sotto di noi. Scava. Una Gunland Berry. Ma che cazzo ci fa una bacca di sole? Sottoterra una bacca! Ah, non lo so. Evidentemente qualcuno l'ha spizzato. Non gli piaceva? Eh. Però ci sono un sacco di oggetti. Attenzione da allenatore leggendario. Vedi, ci sono un sacco di oggetti qui. Tipo uno davanti a noi. Oh, un legnetto. Oh mio Dio è l'oggetto di Farfax. È di Delfox. No, è di Farfax. Ma chi sa di fuori. Non è di Delfox. E Delfox all legnetto. Ah, no, no. Possiamo venderlo. Cazzo. Legnetto, possiamo vendere. No, lo devi tenere, lo devi tenere. Ok. Ivy Sor! Per Delfox nella prossima generazione. Sai i cani che strusciano il culo contro Per Delfox? Sì, è uguale. Ecco, Ivy Sor è così. Vabbè. E usa Giga Drain. Ahia. Quella è rimasta però, eh? Eh? È rimasto Giga Drain. Giga Drain sì, però non è di tipo erba. Vabbè, io continuo ad attaccare. Tanto non sembra che stia facendo... Beh, anzi, madonna. Quifì sta diventando abbastanza forte. Roselia. Oh mamma mia. Stronzo! Muo... No. Non è molto efficace. Cioè, non lo attacca. Alpacco, Roselia, attenzione. Alpacco. Vol tackle. Roselia Alpacco, attenzione. Bu... No, no, no. No, mio Dio. Ci siamo più veloci, eh? Ci siamo più veloci. Ci è mancato una certa di mezzo. Azione. Eh, se falliva la vanno tutti. Anche se... No, minchia. Non può fallire 100% di precisione. Ma se quelli dopo? No! Idiota. Abbiamo... Quante pokeball con la mia valla di quattro 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 di quattro. C'è un oggetto a qualche parte. Davanti a noi. Lì dietro. Oh... Ecco, c'è altro lato. Electrode! Non esplodere! Non penso che esploda. Spero che non esploda. Vol tackle! Vai! È elettrico contro elettrico. Non è elettrico. Però non è molto efficace. Quindi deve essere tipo... Come fa a tirarci un pugno? È una palla! Non hai pugni! Ce li ha all'interno. Come? Dove? È come c'è che non riesca al terzo pugno totalmente. Lui ha pugni ovunque. Perché non spera. Madonna. Pure un critic ci ha fatto. Ah, te cambia pokeball. Sì, è meglio. Allora, meet your mesh è di tipo ghiaccio. Quindi non è molto efficace su cosa? Fire punch! Ciao! Mossa d'acqua, attenzione. Sì. Ho notato prima che erano efficaci le masse di qua, quindi... E' un engineer! Dove è l'oggetto? Qua da qualche parte. Non è stato trovato. No, no. Ops, non c'è più. No, qua dice che c'è qualche... C'è un oggetto. Qua sopra. Come? Dove? Dove dopo? Ciao, Snorlax! C'è un bellissimo oggetto. Forse è qui? Oh, era qui. Una limonata! Ah! Che ha buttato una limonata perfettamente... Intatta. Intatta. Piena. 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 Facciamo pescatore. C'è un allenatore. Prima una gassata... Una gassosa... Continuata la legazione. È molto gazzosa. È molto gazzosa. Il nuotatore è maschio. Sempre Joe. Ciao Suicun! Ah, la voglio a Chia! La voglio, Suicun! È bellissimo, Suicun. Sì. Avveleniamola. Ah, io. Poco pugno di tipo acqua. Però... Ah, avvelenalo. Ok. Va in pace. Vai. Lui usa pigro. Quindi si ricopera continuamente vita. Pigro è una mossa OP. Perché è tipo... È tipo riposo. Senza addormentarti. Oh, cioè... Fuoco è forte. Sì, continua a usare fuoco acqua pugno. Io intanto ti ho avvelenato. Continua ad attaccarti. Lui usa amnesia. Amnesia! Buon sicuro. No. Un fulmino. È morto. Arrivederci. Sei stato l'intenziale a livello a 22. Absol. Oh, mi piace Absol. Lo adoro. A me non piace Absol. Mi è venuto. Lui usa... Super Fang. Am! Toglie metà vita, Kree. L'abbiamo capito prima che toglie metà vita. Cazzo. Cazzo. Sì, però. Bulbasaur. Di nuovo. Sì. Ma Magikarp, Pikachu e tutti gli altri. Dove cazzo sono? Sono diventati loro leggendari. Pikachu l'abbiamo incontrato all'inizio. Non me lo ricordo, sai. Ok. Melo d'erba e ci ha addormentato. Ma porca puttana. Anche lui ha... Però non ci fa un cazzo. Perché è tipo... Quello 1, quello 1, quello 1, quello 1, quello 1, quello 1, quello 1. Ok, fuoco pugno. Ciao. E' veramente, ciao. Cazzo, Rayquaza è veramente... E' una fusione di elementi quel cazzo di buono. Oh no, un A. Oh no. E' un A e richiama il 2 a luce solare. E' resistente. Però l'abbiamo bruciato. Vita al tiro. Aia. Minchia. Minchia, ha già tolto 2. Eh, lo so, ma è sempre... E questo richiama il solo. E lui continua col solo. Intanto ti stai bruciando con gli occhi. Ok, curiamoci un pochino, va. Arrivederci. E vai! Pescatore, maschio o giovane. Ah, prendiamo un po' di buono. Guarda che il vecchio si arrabbia. E voleva lui il vecchio. Chi se ne frega. Ahahahah. Oh, oh. Siamo alla nuova città. Nuova Pokémon! Non in città. Purtroppo in questa città non possiamo avere Pokémon. Omlet? Però possiamo avere tipo una bici e altre cose. Vai a prendere una bici! Però vedremo alla prossima puntata. Novi per nonлавare. Qu'è Pako? Tund'. Take ación. Dann.